quando non si capisce il significato di un posto di un video è buona educazione non commentare non scrivere nulla e si fa più figura allora l'altro giorno io ho messo l'altra sera ho messo il posto un video di dove dicevo che la chiusura dei ristoranti e dei bar e delle trattorie alle 18 penalizza e non poco la categoria degli autisti dei camionisti che la sera non hanno dove mangiare un pasto caldo e stasera ho ammettendo anche un articolo di giornale dove denunciava questa sempre questa questa storia della chiusura alle 18 e alcune persone molto solidali con la categoria dei camionisti hanno scritto commenti molto molto belli ma sia l'altra sera che stasera due persone che invita loro massimo ma massimo che hanno guidato ho spostato è stato alla bicicletta con le rodelle a tre ruote massimo che hanno guidato si sono sentiti uomini e hanno commentato dicendo che ci sono gli autogrill e allora non tutti gli autisti sono in autostrada non tutti i camionisti sono in autostrada ci sono molti camionisti autisti che si fermano nel nel posto di carico scarico e dunque fuori dall'autostrada e dunque una trattoria lì vicino farebbe comodo punto primo e punto secondo o stasera un signore va e scrive e vabbè ma mica muoiono ci pensano di giorno cosa mangiare la sera non muoiono ci sono cose molto molto più gravi che un camionista che resta morto di fame hai ragione ci sono cose molto più gravi di un camionista che non mangia tipo lo sciopero dei camionisti è molto più grave di un camionista che non mangia hai capito ma tu che cosa ne puoi sapere che cosa ne puoi sapere appunto che sei cosa solo di guidare un riciclo tu che ne sai della vita dei camionisti tu che ne sai cosa vuol dire spetta in cabina che poi ti chiamiamo noi passano quattro ore ti sei mangiato tutto l'impegno e non hai dove andare a cenare la sera tu cosa ne sai cosa vuol dire fare 50 prese per caricare un bilico per farti trovare l'indomani la roba fresca a te nei supermercati ok per non farti mancare nulla come è successo in quarantena ok non è mancato nulla né a te né a me né agli altri con tutte le difficoltà che ci sono state i camionisti erano per strada a macinare chilometri mentre tu mangiavi con i piedi sotto il tavolino mentre tu dormivi nel tuo letto loro macinavano chilometri e tu l'indomani andava a farti la spesa e ora mi viene a dire vabbè non muoiono hai ragione loro non muoiono loro non muoiono ma voi tu rattate beh faccio amore prima di commentare a cazzo rattate beh sulla faccio amore a tutti voi che avete dato un pensiero gentile avete rivolto un pensiero gentile a tutti questi camionisti che 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 lavorano per noi vi dico grazie vi dico grazie perché sono cresciuta in questo ambiente io so la fatica che fanno so la vita che si fa e e so quanto è difficile e mentre io appunto queste cose le capivo le ho vissute le ho imparate la gente che commenta a cazzo non era neanche nei pensieri lontanamente nei pensieri di sua mamma e di suo papà e ora si permettono di fare professori e a tutti i camionisti che che ci che ci seguono che con condividono i nostri pensieri i nostri video che ci leggono auguro una buona strada e occhio vivo sempre una buona serata a tutti